Coinbase Advanced Trade, benvenuti nel tutorial ufficiale di Coinbase Advanced Trade, la nuova piattaforma che andrà a sostituire Coinbase Pro, che è già andata a sostituire Coinbase Pro e questo è il tutorial ufficiale perché quello che è successo nelle ultime settimane è che chi non aveva fatto richiesta di spostamento dei fondi, in automatico i fondi di Coinbase Pro sono stati spostati all'interno di Coinbase Advanced Trade. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Coinbase Pro non si potrà più utilizzare, si utilizzerà Coinbase Advanced Trade, quindi non cambia nulla dal punto di vista dei vostri fondi, non vi preoccupate, è solo una naturale evoluzione di Coinbase e in questo video scopriremo come utilizzarla e come funziona. Prima di andare avanti come sempre però vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi tanti altri contenuti come questo e vi ricordiamo che potete entrare all'interno del nostro canale Telegram dove troverete tantissimi contenuti dedicati al mondo delle criptovalute e anche del trading di criptovalute. Vi ricordo che in basso in descrizione potrete ottenere il bonus di benvenuto di Coinbase che vi dà la possibilità di sbloccare 10 euro di bitcoin, 10 dollari per esattezza di bitcoin gratis registrandovi dal nostro link, quindi cliccate sul link, effettuate la registrazione con il classico che vuoi sì con i documenti. Quindi quello che dovete fare è acquistare 100 dollari di criptovalute, io per sicurezza vi consiglio sempre 105-106, quindi 105-106 euro per capirci, una volta aver effettuato questo acquisto, questo deposito all'interno di Coinbase sbloccherete questi 10 dollari di bitcoin gratis che visto l'attuale prezzo di bitcoin se bitcoin ridonerà sui massimali potrebbero essere molti di più di 10 dollari nel prossimo futuro. Vediamo alcune peculiarità di Coinbase Advanced Pro e poi entreremo all'interno della piattaforma. Naturalmente in questo caso abbiamo la possibilità di poter fare trading di criptovalute acquistando e vendendo criptovalute utilizzando strumenti di trading avanzati, guadagnando premi per lo staking e questo lo possiamo fare direttamente con Coinbase e spendere senza problemi con Coinbase Card utilizzando un saldo su un'unica piattaforma. Quindi diciamo che quello che loro hanno voluto fare è inserire tutto all'interno di una sola piattaforma invece di separarle come erano in passato. Per quanto riguarda le commissioni abbiamo la stessa struttura tariffaria basata sul volume di Coinbase Pro. I tipi di ordine che possiamo andare a effettuare che ripeto vedremo tra poco assieme sono ordini market limit, stop limit e action mode, il picchettamento che sarebbe lo staking ma la traduzione lascia il tempo che trova, possiamo guadagnare fino al 5% di API su SDC, Ethereum eccetera eccetera ma questo riguarda il classico Coinbase. Andate a recuperare il tutorial dedicato al Coinbase tradizionale che è ancora valido e che comunque vi spiega a 360 gradi come sfruttare la piattaforma e poi abbiamo tutte le coppie di mercato supportate su Coinbase Pro con la stessa liquidità. Quindi diciamo che è realmente cambiato poco, abbiamo magari una nuova interfaccia e una nuova piattaforma che interna direttamente a Coinbase. Ma attenzione perché grazie a Coinbase Advanced Pro abbiamo la possibilità di avere grafici forniti da TradingView come EMA eccetera eccetera e strumenti di disegno per aiutarti a portare il tuo trading a livello successivo. Questa è più o meno la grafica e quindi l'aspetto grafico di Coinbase Advanced Pro. È un livello superiore rispetto a Pro quindi finiamo questa sezione dedicata appunto alle differenze e poi entriamo a vederlo nel dettaglio all'interno del sito web ufficiale. Allora innanzitutto come potete vedere qui abbiamo le commissioni che sono più o meno le stesse e quindi abbiamo 0,4% e 0,6%. Dipende se siamo maker o attacker. Abbiamo la possibilità di guadagni nella DeFi semplicemente perché siamo nella piattaforma di Coinbase. Tutte le coppie di mercato supportate su Coinbase abbiamo con la stessa liquidità. Qua abbiamo oltre 350 coppie di mercato. Quindi diciamo che da questo punto di vista se qui ce lo mostrano in questa maniera probabilmente perché magari abbiamo anche delle coppie in più che sono state aggiunte. I tipi di ordini sono gli stessi. Ok. I grafici sono migliorati. Quindi hanno migliorato anche l'aspetto di chi vuole poi andare a fare le classiche analisi. Ok. La sicurezza che da questo punto di vista come potete vedere è aumentata. L'applicazione mobile è disponibile e a metà del 2022 quindi naturalmente adesso dovrebbe esserci visto che siamo alla fine del 2022 ma quando stiamo registrando questo video ci dovrebbero essere le API commerciali che su Coinbase Pro già c'erano. Quindi adesso direi di entrare all'interno della piattaforma e vedere a 360 gradi come funziona Coinbase Advanced Pro. Eccoci ufficialmente all'interno dell'account di Coinbase. Come potete vedere ci ritroviamo direttamente all'interno della piattaforma ufficiale di Coinbase. Tutto in uno. Molto meglio. Quello che noi dobbiamo fare è andare nella sezione scambia. Ok. E una volta fatto questo abbiamo la possibilità di visionare le varie coppie. Ok. Che possiamo andare a tradare. Le possiamo anche andare a cercare direttamente. Quindi possiamo fare lo scambio semplice. Classico quello che si fa su Coinbase. Non entro troppo nel dettaglio. Oppure possiamo fare trading. Che è molto meglio. Sapete perché? Perché comunque al di là del fatto che voi vogliate essere trader o no. Se volete investire nelle criptovalute. Acquistando attraverso queste funzioni. Quindi attraverso per esempio Coinbase Advanced Trade. Andrete a risparmiare anche sulle commissioni. Sul costo. Quindi anche sullo spread. Sul costo della cripto. Quindi di conseguenza pagherete meno e avrete più cripto a disposizione. Quindi vi sarà consiglio sempre di utilizzare questi strumenti e di imparare a utilizzarli. Non è niente di complicato. Abbiamo realizzato sul nostro canale una playlist trading per principianti. Andatela a vedere perché è essenziale. Detto questo quindi abbiamo visto che c'è una sezione semplice e una sezione opzioni avanzate. In questo caso per quanto riguarda la sezione opzioni avanzate. Ripeto posso andare a selezionare una coppia. Posso cercare le coppie di mercato. Quindi per esempio se io scrivo Ethereum posso vedere tutto quello che mi offre Ethereum. Per quanto riguarda le varie coppie. Oppure posso andare direttamente qui a selezionare. Vedete io scrivo Ethereum, vado su DAI, vado su Bitcoin, USDT, Euro e così via. Vedete c'è anche Ethereum, Euro eccetera eccetera. Quindi in questo caso io che cosa posso andare a fare? Vado su Euro, voglio scambiare i miei Euro in USDT. Faccio un esempio proprio banalissimo. Ok? E allora che cosa vado a selezionare? Vado a selezionare questa coppia. Innanzitutto come potete vedere quindi prima di entrare nella sezione trading ci fa vedere il prezzo al quale viene scambiato. Quindi in questo caso per esempio un Ethereum viene scambiato a 1221 Euro. Un USDT viene scambiato a 0,96 Euro. Ci fa vedere quello che è il volume. Ci fa vedere la variazione. Possiamo anche inserirle nei preferiti. Ok? Qua ci fa vedere quali sono le coppie che hanno portato i maggiori guadagni invece quelle che hanno portato maggiori perdite in questo momento. Cioè nel senso naturalmente quelle che poi in realtà stanno andando meglio e che stanno andando peggio. E qui possiamo andare a vedere tutti gli ordini che abbiamo effettuato. Molto molto easy. Detto questo io adesso clicco qui su USDT Euro così vi faccio vedere la grafica, la nuova grafica di Coinbase Advanced Trade. Allora cerchiamo di capire naturalmente a 360 gradi come funziona Coinbase Advanced Trade. Qui in alto posso andare a selezionare le coppie. Quindi oltre alla schermata precedente che avete visto posso farlo anche qui e le posso cercare direttamente qui o posso andare a selezionarle. Posso vedere il prezzo più recente, il volume delle ultime 24 ore, il massimale delle ultime 24 ore e i minimi delle ultime 24 ore. Posso naturalmente andare a visionare qui il grafico con le classiche candele e posso naturalmente in questo caso andare anche a disegnare o ingrandire, entrare nella modalità a disegno, bloccare tutti gli strumenti di disegno, nascondere gli strumenti di disegno oppure cancellare quello che ho fatto. Io qui naturalmente posso scegliere se vedere le candele in questo modo, in questo modo oppure la linea. Ok, quindi decido direttamente io. Guardate quanto è semplice, quanto è fatto bene. Qui ho la possibilità di inserire anche un intervallo, quindi voglio un intervallo più grande e vado a selezionare questo. Quindi voglio l'intervallo di un giorno, voglio l'intervallo di due ore, voglio l'intervallo di un minuto, voglio l'intervallo di 15 minuti che era quello che avevamo visto. Posso andare a selezionare anche gli indicatori. Ok, e poi naturalmente posso anche andare a selezionare l'area tra limiti. Non entro troppo nel dettaglio perché naturalmente i trader più esperti sapranno che cosa farne, sia con questa sezione sia con questo. Questo non è un corso per trading, ma semplicemente vi faccio vedere che opportunità ci mette a disposizione. Io naturalmente muovendomi, come potete vedere con la rotellina del mouse, ho la possibilità di andare a diminuire o ingrandire questo grafico. Ok, quindi posso decidere di ingrandirlo o diminuirlo semplicemente spostando la rotellina. Qui ho il libro degli ordini, ok, quindi qui posso vedere tutti gli ordini che sono stati effettuati. E qui naturalmente il grafico del libro degli ordini. Qui invece ho la cronologia degli scambi, quindi vediamo naturalmente le cose che poi obiettivamente non ci possiamo fare nulla. Diamo solo un'occhiata per capire che cosa sta facendo il mercato. E attenzione, cosa molto importante, questa è la sezione che ci interessa, dove noi possiamo acquistare o vendere le nostre retto valute. E quindi dove noi possiamo fare il trading. Questa è la sezione più importante in assoluto per rendere operativa tutta la nostra analisi che abbiamo effettuato. Ho cambiato coppia, ho utilizzato XLM Stellar Lumens, che è una delle cripto che abbiamo in questo wallet di test. E iniziamo dalla cosa più semplice in assoluto. Naturalmente io in questo caso non posso acquistare perché non ho euro in questo momento. E quindi vado direttamente nella sezione vendi. Ma è la stessa identica cosa. Nel caso in cui io voglio acquistare, acquisto XLM con euro. Se voglio vendere, vendo XLM per euro. In questo caso che cosa vado a fare per quanto riguarda il classico ordine di mercato? Vado a impostare il massimo che voglio vendere o quanto voglio vendere. Quindi voglio vendere 46 XLM. Mi dicono che in questo momento la stima è di 3,92 euro. La commissione dovrebbe essere di 2 centesimi. Lo scostamento stimato è lo 0%. Il totale del prezzo medio è di 0,08. Clicco su vendi ed effetto il mio trade. Non lo faccio perché non ho interesse a vendere in questo momento. Però comunque è una cosa che posso andare a fare in maniera molto semplice. L'ordine di mercato naturalmente cosa vuol dire? Che il primo prezzo utile all'interno del registro degli ordini lo utilizzerà e praticamente andrà a vendere. Quindi non vado a scegliere io il prezzo. E' una cosa che comunque conviene di più rispetto a fare direttamente uno swap classico con le app, per dirvi, dei vari exchange. Ma comunque non è la cosa migliore. Perché magari se vogliamo andare a vendere al prezzo che diciamo noi, è opportuno utilizzare l'ordine limite. Ed ecco che in questo caso quello che vado a fare è innanzitutto scegliere l'importo. Io voglio vendere magari 30 XLM. Quindi qua posso andare anche a impostare l'importo. Qui in automatico mi calcolerà tutto. La commissione vedete che, guardate se metto tutto, siamo lì. Però qual è la differenza? La differenza è che vado a scegliere io il prezzo. Quindi io magari non voglio vendere a 0,8 ma voglio vendere a 0,9. Quindi in questo caso che cosa succede? Che il guadagno è di 2,19. Guardate se era 0,8. Era di 1,96. Ora naturalmente parliamo di spiccioli però per farvi capire che se secondo me XLM può arrivare a un prezzo di 0,09 euro io vado a impostarlo qui. Ok? E quindi posso andare a decidere qui di impostare magari un aumento del 5% rispetto a questo prezzo del 5% e così via. Qua quella che è la domanda. Qui una media. Ok? Ma in ogni caso posso impostarlo manualmente direttamente io qui. Ok? Quindi a 0,09 lo voglio vendere. Oppure guardate questo lo impostiamo. Voglio vendere a 1 euro. Tanto comunque è una cosa complicata che possa succedere adesso. Io clicco su vendi XLM e ho piazzato il mio ordine. Ok? Il mio ordine è stato piazzato. È qui in basso negli ordini. Ok? Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Eccolo qui. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Il 30 novembre 2022 ho messo quest'ordine e quindi praticamente venderò 23 XLM a un prezzo stimato di 1 euro e quindi avrò un guadagno di 22,86 euro. Naturalmente l'ordine rimane aperto fin quando non avviene. Ok? Se io voglio andare poi a chiudere l'ordine, vedete qua mi da tutti i dettagli. Clicco su annulla ordine e l'ordine è stato annullato. Non è andato a buon fine. E io mi ritrovo nuovamente tutti i miei XLM. Vedete che li posso nuovamente andare a tradare. Infine abbiamo lo stop limit. Che qua lo traduce limite di arresto ma sarebbe lo stop limit. In questo caso che andiamo a fare? Andiamo ad inserire un importo che vogliamo vendere. In questo caso sempre i nostri 23 XLM. E guardate un po' abbiamo realizzato un video, quindi non entro troppo nel dettaglio, che si chiama Trading Cryptovalute. Cos'è lo stop limit? Andatela a vedere perché spiega chiaramente tutto quello che c'è da sapere sullo stop limit in maniera semplice ed elementare. In modo tale da non confondervi. Ok? Quindi andatela a visionare. Ma generalmente che cosa si va a fare? Si va a mettere un prezzo, quindi in questo caso io magari voglio vendere a un massimo di 0,01. Ok? Io voglio vendere a 1,01 e qui vado a mettere 1. Generalmente quando andiamo a vendere mettiamo il prezzo limite più basso del prezzo stop. Ok? In questo caso lo stimato sarà 22,86. La commissione stimata sarà di 13 centesimi di euro. Vedete che qua comunque parliamo già di commissioni più alte. Ma ripeto, visto il prezzo a cui stiamo andando a vendere, validità, fine alla cancellazione o fine a tempo trascorso. E quindi decidiamo noi se impostarlo per un giorno, per un euro, un minuto oppure la cancellazione, cioè quando naturalmente va a buon fine. Io clicco su vendi e qua ci spiega. Avviso sugli ordini stop limit. Se l'ultimo prezzo di negoziazione è superiore a 1,01 sarà emesso un ordine di vendere XLM per l'importo di 23 XLM al prezzo limite di 1 euro. Ok? Quindi noi andiamo a cliccare su invia ed ecco che l'abbiamo fatto. Naturalmente in questo caso io posso sempre scegliere di annullare l'ordine e lo vado ad annullare. E qua ripeto, andate a visionare questo video che spiega chiaramente come funziona lo stop limit a 360 gradi. Qui lo spiegano in maniera molto semplice e veloce. Ora, cosa molto importante ragazzi. Queste sono le opportunità e le possibilità che ci dà Coinbase Advanced Pro. Ha senso utilizzare questo strumento oppure no? Secondo noi sì, vista comunque anche la storicità di Coinbase che esiste da talmente tanto tempo che ci dà qualche certezza in più rispetto ad altre change. Ricordate il fattaccio FTX. Può essere molto utile per diversificare, nel senso che possiamo usare anche questa piattaforma, non solo questa piattaforma. E soprattutto se avete già un conto su Coinbase e dei fondi su Coinbase, sfruttatela. Quindi naturalmente non è la numero uno in assoluto, ma tra le varie piattaforme di trading, di criptovalute, sicuramente è una piattaforma che può tornare realmente utile. Ripeto, anche in ottica di diversificazione, perché molti avevano i fondi su FTX, trattavano lì perché era il top del top del top e poi hanno perso tutto. Quindi anche per quanto riguarda il trading, al di là di tenere come wallet determinati exchange, che non va mai bene, ma al di là di questo, anche per il semplice trading, diversificate ragazzi, è importante. Quindi secondo noi è approvato e hanno fatto bene ad unire tutto all'interno di una sola piattaforma. E poi comunque vi dico che hanno, sono riusciti comunque a passare i fondi da Coinbase Pro Advanced Trade in maniera molto semplice e veloce. Ci hanno dato la possibilità di poterlo fare manualmente oppure di farlo loro in automatico, quindi sono stati veramente bravi. In basso in descrizione troverete il link referral per registrarvi gratis e ottenere il bonus di benvenuto. Con questo video abbiamo finito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto!